Dal momento che tale disposizione non prevede tra le materie escluse quella elettorale, la Presidenza, senza entrare nel merito di valutazioni sull'opportunità politica del voto di fiducia, non può che ammettere da parte del Governo l'esercizio di tale prerogativa costituzionale. Chi è che ha? Deputato De Lorenzis, la richiamo all'ordine, lei non può esprimersi in questo modo nei confronti della Presidenza, lei ne dovrà rispondere. Benissimo, 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 continuate con insulti perché non sapete argomentare, dunque insultate pure, insultate, liberi di insultare, io sto dando motivazioni ad una scelta e voi come rispondete con l'insulto? Complimenti, complimenti, complimenti. Bene, allora, se posso continuare? Sempre nelle motivazioni, se vi interessa, altrimenti io posso anche evitare di farlo.